buonasera a tutti da GUSCAT buon venerdì il video di oggi è relativo alla presentazione di Apple dei prodotti 2021-2022 fatta il 14 di settembre da utente comune di tecnologia do una mia disamina in merito alla presentazione fondamentalmente non mi ha impressionato più di tanto anche perché si sapeva già da mesi più o meno cosa presentava Apple poi fatto salvo piccole modifiche dell'ultima ora sostanzialmente i prodotti erano già definiti già da mesi anche a livello di indiscrezioni foto rendering eccetera venendo la presentazione nulla di nuovo sotto il sole da quando gestisce Tim Cook praticamente c'è un certo c'è uno stile un po' assettico nelle presentazioni meno enfatizzano sì il prodotto e tutto ma secondo me Steve Jobs era più era più dava più l'idea di importanza avere un altro stile ecco invece questo Tim Cook si si è bravo e tutto però molto asciutto venendo i prodotti appunto iphone 13 non mi ha impressionato più di tanto lo ritengo una buona evoluzione del 12 con caratteristiche comunque ottime ben ottimizzate anche perché la base di funzionamento comunque deriva dall'iPhone X e nel giro di tre quattro anni tre anni quattro anni praticamente si è affinata si è resa più efficace anche perché anche il sistema operativo di pari passo ha avuto un'evoluzione ed è praticamente il segreto di Apple produrre un buon comparto hardware molto ben calibrato anche di qualità abbinato a un aggiornamento costante del sistema operativo per cui il prodotto quando nasce nasce già bene e può solo migliorare nel tempo e questo lo posso notare ad esempio sull'XR che ho che ha avuto un buon comparto di aggiornamenti adesso siamo alla 14.7 tra un qualche giorno dovrebbe ricevere anche lui la iOS 15 e sicuramente fatto salvo i limiti del prodotto XR nei confronti dell'aggiornamento il telefono andrà comunque bene non avrà particolari problemi sarà sempre fluido appunto perché l'Apple li calibra nella maniera ottimale da appassionato di tecnologia cosa posso dire? posso dire che l'iPhone 13 per chi proviene da telefoni magari Android vecchi oppure vuole cambiare perché vuole avere vuole passare un altro sistema operativo eccetera può anche andare bene può anche pensare di acquistare già da subito un iPhone 13 magari non versione pro magari versione mini versione 13 normale però avrebbe sempre comunque un buon prodotto per chi è già Apple e ha un telefono comprato recentemente come fossi io che c'è circa due anni XR non sento la necessità di cambiarlo con questo 13 ovviamente che se fosse come mio fratello che ha un 5S molto usato molto diciamo ormai abbastanza lo vedi che è usurato se anche dovesse passare al 13 potrebbe anche fare un buon acquisto perché vai sul sicuro se ti piace Apple idem per chi ha degli Android vecchi oppure vuole proprio appunto come ho detto prima cambiare un po' stile di utilizzo del cellulare quindi iPhone 13 gli do come voto 8 e mezzo 8 e mezzo passando a iPad mini posso dire che forse è la vera novità di Apple anche perché dopo anni di stasi del prodotto e ultimamente era molto stanco lo vedevi anche quando lo vedevi nei negozi nei media world eccetera confrontato agli iPad Air ma anche lo stesso iPad normale che sì il design non è cambiato molto però qualche modifichina l'ha fatta lo schermo luminoso gli hanno fatto gli hanno messo dei come si dice un hardware un po' più performante eccetera vedevi che là il mini era proprio stanco sì funzionava ma quando lo usavi non faceva bella impressione c'era proprio un ripiego è come se dire ma ce l'abbiamo non mettiamo l'in vendita però e quest'anno finalmente si sono fatti coraggio hanno fatto una versione esteticamente gradevole che si rifà all'Air nuovo sicuramente secondo Apple dovrebbe essere più veloce un po' più performante con tagli di memoria un po' più importanti anche perché su un tablet 32 giga attualmente sono poco pochi almeno ci va un minimo 64 giga per avere un tablet che si può avere un utilizzo a 360 gradi quindi poi oltretutto c'è al plauso della presa usb c non più la lightning quindi ti permette di attaccare le chiavette ti permette di avere una standardizzazione nei collegamenti dove invece con la lightning sei sempre vincolata a un cavo che nessuno utilizza e che ha comunque dei limiti anche di funzionamento benché funzioni bene però la usb tipo c funziona meglio quindi su un tablet che più votato l'utilizzo semiprofessionale è anche giusto che ci sia qualcosa di standard che trovi anche da altre parti per ipad normale nulla di nuovo sotto sole cioè mantengono l'estetica e materiali del vecchio ipad affinano moltissimo l'herdware mettendoci il bionic a 13 quindi risulterà un prodotto economico sì ma comunque di fascia medio alta è un prodotto che se uno non vuole spendere una cifra esagerata ma vuole avere un bel tablet piuttosto che comprare un android economico da 150 euro ne spende il doppio sicuramente però li recupera tutti questi soldi perché con gli aggiornamenti il mantenimento del prodotto da parte della casa eccetera tu ci guadagli due volte perché nel tempo hai un prodotto comunque con assistenza mentre vi sono dei tablet economici che costano i 350 euro che per un anno forse due funzionano bene poi la casa non ne supporta più aggiornamenti non ne fa più e quindi rimani con una cosa a zoppa e quindi buttato via 150 euro che poi ti costringe a comprare un altro e da quel punto ne spendevi 350 subito e avevi un prodotto più completo ecco fondamentalmente quella cosa passando allo smartwatch devo dire che i smartwatch sono prodotti che non mi attirano più di tanto a vederlo sembra carino sembra fatto bene è anche lì un affinamento della serie 6 schermo leggermente più grande tutti pensavano che producessero una versione con un design diverso invece apple per quest'anno ha fatto ancora un design diciamo classico per quel tipo di prodotto personalmente a spendere 4-500 euro in uno smartwatch in questo momento io non ci penso perché alla fine vai a spendere quasi tanto con un cellulare è un qualcosa che senza il cellulare senza tablet non ti serve sostanzialmente nulla sì c'è il battito cardiaco c'è quelle cose lì però ai fine se stesso cioè per una persona normale che magari si fa un po' di sport eccetera ma lo fai a livello così amatoriale magari una volta a settimana eccetera non mi pare il caso di andare a spendere così tanti soldi in un apparecchio del genere vi sono prodotti più economici che danno hanno caratteristiche simili e sono meno impegnativi concludendo posso dire che i tre prodotti non mi dispiacciono in toto ma al momento non non vedo il motivo per cui devo comprare un prodotto apple perché in questo momento io sono già soddisfatto di quello che ho per come lo uso e per quello che mi serve quindi da utente comune come invece ne possono essere tantissimi quindi non sono un fan di apple sono uno che ha scelto apple come cellulare perché voleva provare a cambiare effettivamente non dico che va male anzi in certi comparti va benissimo è calibratissimo e dà le sue soddisfazioni mediamente anche ad esempio un XR che non è proprio il top di gamma comunque mediamente ti offre un prodotto tutto tondo che negli android fino a 300 euro io non ho ancora trovato certo costa un po' di più però effettivamente ha qualcosa di più ma allo stesso tempo se devo dire lo cambio per prendere un 13 non lo faccio perché andrei a spendere una cifra alta molto più alta di quando ho comperato un XR sì c'è qualche opzione in più però poi alla fine sono quelle opzioni che magari le utilizzi una volta per provare poi non le utilizzi mai perché come senso pratico ne hanno almeno per quanto mi riguarda me ne hanno poco vanno bene per chi è proprio impallinato per un certo tipo di utilizzo se io se devo fare delle foto uso la macchina fotografica ho una bella reflex semplice una Canon 1100D che fa delle foto ottime e quando devo fare delle foto prendo la mia macchinina fotografica comincio a fare delle foto e ho le mie soddisfazioni quelle che il tablet o il cellulare non mi danno comunque soddisfazione a fare le foto sì puoi fare una foto così pronti via però se devo mettermi a fare delle foto preferisco usare la macchina fotografica è più soddisfacente primo perché comunque le fa meglio ma è proprio il fatto che sia una macchina fotografica il cellulare e il tablet si lavorano bene ma gli manca questo input ecco è una mia impressione ma volevo essere chiaro concludo che prossimamente se riesco a metterci le mani sopra questi prodotti voglio provarli e poi fare un filmato per vedere se effettivamente sono migliori o meno perché fino adesso ci basiamo su quello che Apple ha presentato e la gente normale effettivamente non ha ancora avuto la possibilità di metterci le mani sopra questi prodotti quindi a dire se effettivamente sono validi bisogna aspettare un attimo buonasera a tutti e grazie per la visione ciao